Proprio in prossimità delle elezioni europee, l'Europa viene messa sotto accusa per la riduzione dei contributi emessi in favore dell'agricoltura, già sotto pressione per il protrarsi della guerra russo-ucraina. Problemi questi che si riflettono anche nel nostro territorio e che sono stati posti in evidenza di fronte ai tre candidati sindaco del Comune di Fano, Fanesi, Marchegiani e Serfilippi, e all'assessore regionale Stefano Aguzzi durante l'Assemblea della cooperativa agricola di Falcineto. Si riduce la redditività del lavoro dei campi, il bilancio della cooperativa si chiude con un deficit e la cooperativa stessa è costretta ad attingere al fondo di riserva. Francesco May, situazione di crisi molto dipende dalla PAC europea. Molto dipende dalla PAC europea, l'obiettivo nostro deve essere quello di arrivare a garantire un reddito decente agli agricoltori, quindi intervenire sui costi, intervenire con qualche con uno strumento di riconoscenza sui ricavi e intervenire sulla PAC. Queste le cose che si possono fare per migliorare la situazione dell'agricoltura. Ecco, la PAC è il contributo che l'Europa dà agli agricoltori, di quanto è diminuito? È diminuito del 40% perché la media più o meno era di 350 euro all'ettaro e adesso di 200 euro all'ettaro. Ed è diminuita in corso d'opera, ovvero nel momento in cui sono stati fatti gli affitti, i contratti eccetera. In un'azienda ci sono degli affitti che naturalmente sono pluriannali, che durano per più anni, la PAC è cambiata l'anno scorso e questa ce l'avremo per sei anni, quindi noi ci troviamo in una situazione in cui i costi non li possiamo andare a modificare perché sono quelli, sono dei contratti fatti sia degli affitti sia dei prodotti che noi vendiamo su alcuni prodotti. Invece i ricavi all'improvviso ci troviamo con questo 40% in meno. C'erano i tempi in cui il prezzo del grano era aumentato considerevolmente, ora è diminuito causa forse anche del conflitto russo-ucraino. Allora sono aumentati a causa del conflitto i ricavi, dietro l'aumento dei ricavi naturalmente tutti si approfittano, sono aumentati tantissimo i costi. I ricavi sono scesi drasticamente e i costi invece ancora sono lassù, sono diminuiti proprio in piccola quantità. Ecco e per quanto riguarda la cooperativa Falcineto, com'è la situazione? La cooperativa Falcineto come bilancio quest'anno abbiamo evidenziato una perdita, siamo tra virgolette diciamo fortunati perché abbiamo delle proprietà immobiliari e quindi per coprire la perdita siamo riusciti a vendere alcune proprietà immobiliari e abbiamo una situazione tranquilla per questo. Altrimenti in questo momento non ci sarebbe proprio da star tranquillo perché non si vede ancora la soluzione, quindi noi non possiamo continuare a lavorare, questo sarebbe il secondo anno, il raccolto di quest'anno, sapendo che anche se facciamo un buon lavoro e riusciamo ad avere un ottimo raccolto, siamo certi che non ci basterà per coprire i costi e non si può lavorare così. Simone Cecchettini, siamo in periodo elettorale, ci sono due livelli, un europeo e uno più locale, ebbene questi due livelli cosa possono fare per sostenere l'agricoltura? Ovviamente la responsabilità aspetta più l'Europa. Sì, l'Europa ha un ruolo fondamentale, il prossimo Parlamento europeo e in particolare la Commissione europea dovrà prendersi in carico le difficoltà che sono state create nella vecchia programmazione. Come si diceva prima, bisogna mettere mano alla PAC, cercare di dare risorse e contributi a questo comparto, all'agricoltura, all'agroalimentare che sono essenziali per l'alimentazione del nostro paese. Grazie.